dai c'erano qui madonna Jason Klangenberg ho capito, devo dirlo io Jason Klangenberg o Jason Klangenberg o Jason Klangenberg il nome inizia per Jesse con il nome per Cal Gescal, può essere Gescal no aspetta sai chi è questo qua no no sai chi è questo qua questo qua è quello che ha fatto ultimamente che è uscito da poco il film con la lui e la dai brava anche lei madonna famosa anche lei me ne ha fatti di film questa qui ma si la conosce bionda dai con i capelli dai con i capelli perché si era rifatta questa qui ma si che l'hai vista sicuro questa qui ha fatto anche 5 o 6 film con madonna dai famoso anche fa sempre la parte del cattivo oh quanto lo dico dici ah no 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 aspetta 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 sai questa qui chi è c'è stato uno scandalo anni fa che non mi ricordo quanti che ha sposato ne hanno parlato tutti giornali, televisioni, radio perché ha avuto uno scandalo che ha sposato ha avuto anche un figlio o una figlia dalla la cantante del gruppo inglese non inglese, americano non cantante bassista dei che a un certo punto nel film con il cattivo lei va da lui dice che il marito è morto si ma ti ricordi un cazzo tu sento io che ti parlo non ti vengo un nome sappia il tempo ti metti il telefono acceso e mi metti un messaggino sul titolo del film e registra gli attori il film l'ho visto con Cinzia Cinzia c'ha la memoria ma Cinzia non è che si dicono solo titoli di registra attori no 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 titoli di registra attori elettricisti fonici parrucchieri Cinzia c'ha la memoria a parte che Cinzia mi sa che ha in situazioni che ne so tipo anniversario eonomastici compleanni non mi ricordo niente sai cosa vuol dire niente? niente 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 meno male che ci Cinzia se no io no Cinzia aspetta letizia no no carinzia no c'è dentro la zeta no Zorro no aspetta aspetta adesso te lo dico mi concentro sì lo so che tardi mi faccio aspettare fino adesso adesso aspetta i tre minuti se no non dormo non è Cinzia mi concentro ti dico il nome si va a dormire mamma mia che carattere non è Cinzia un attimo no allora vuoi tu Max prenderli qui presente come tua sposa cosa c'era al posto grazie mille grazie mille grazie mille